Il segretario Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale, ma immagino abbiate saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa e quindi volevo ovviamente ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli esteri per il lavoro straordinario, silenzioso che hanno fatto per riportare a casa questa ragazza. I'm sorry. Grazie a tutti, buona giornata.